La deputata di Forza Italia, eletta nel Collegio Uninominale di Agropoli, Marzia Ferraioli, nella giornata di mercoledì, ha presentato un'interrogazione per chiedere quale sarà la sorte della casa circondariale di Sala Consilina. La Ferraioli, nel documento indirizzato al Ministro della Giustizia Bonafede, analizza i punti della sentenza del Consiglio di Stato in cui si evidenzia la parziale illegittimità della procedura adottata per sopprimere il carcere e aggiunge poi, con una puntuale trattazione giuridica, che è grave il vulnus al principio della territorialità dell'esecuzione penale, visto che autorità, giudiziari, avvocati e ogni altro operatore del settore sono obbligati ad utilizzare più case circondariali. Corrisponde invece, scrive ancora l'On. Ferraioli, all'interesse pubblico da tutelare la non soppressione di case circondariali utili a contribuire al ridimensionamento di trattamenti inumani e degradanti, connessi al sovraffollamento carcerario, all'insufficienza di strutture e al disagio che grava sui detenuti. La Ferraioli fa riferimento ai ricorsi più volte presentati alla Corte europea in merito alle condizioni degradanti alle condanne subite dall'Italia per la carenza di spazi nelle carceri e ai principi del trattamento del detenuto e della sua rieducazione in vista della risocializzazione. In ultimo, Martia Ferraioli chiede a Bonafede quali elementi si intendano fornire alla luce di tutto quanto descritto in premesse e quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministero interrogato intende assumere al riguardo. Un'interrogazione che è venuta quasi in concomitanza con la conferenza dei servizi che si è svolta a Roma e nel corso della quale si è parlato proprio delle sorti del carcere di Sala Consilina.